Si è riunita in seduta straordinaria la Commissione Sanità presieduta da Mario Olivieri per procedere alle aduizioni del Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione Abruzzo, Angelo Muraia, e dei Sindacati Sanitari Abruzzesi, in relazione allo stato di agitazione per la carenza di personale nelle AS provinciali e con il Comitato Civico di Salute Pubblica per esporre la situazione dell'ospedale clinicizzato di Chieti, in ordine alla realizzazione del DEA di secondo livello e all'atto aziendale dell'AS del Lanciano, Basto Chieti. Su questo argomento, dibattuto in Commissione, il Direttore del Dipartimento della Salute precisa la posizione della Regione Abruzzo. Noi abbiamo dato atto e seguito al programma operativo 16-18 che è stato decretato con il decreto 55 del 2016, laddove si sottoscriveva che sarebbe stato fatto uno studio di fattibilità riguardo al DEA di secondo livello sui due presidi ospedalieri più importanti della nostra Regione riguardo soprattutto la densità di popolazione, cioè quello di Pescar e quello di Chieti. Quindi era scritto nel programma operativo, si è dato seguito al programma operativo, è stata istituita la Commissione, la Commissione ha lavorato e ha praticamente prodotto un documento che è stato portato all'attenzione della politica sanitaria e è ricepito poi con delibera di giunta. In questo documento si dice che i due presidi devono essere interconnessi funzionalmente riguardo alle patologie e soprattutto tempo dipendenti, cioè l'infarto del miocardio, lo stroke e il politrauma.